Finalmente soli, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno vivendo il loro amore al riparo dalle telecamere del GFVIP. La coppia si è riunita ieri sera dopo l'eliminazione dal gioco dell'ex ciclista, arrivata una settimana dopo l'uscita dalla casa della modella argentina. Ed è stato subito tempo di selfie, la prima foto fuori dal reality show di Canale 5 li ritrae a letto insieme. Tutto il resto è noia, scrive Ignazio su Instagram a corredo di uno scatto in cui i due, sdraiati, si scambiano un tenero bacio. Dopo lo scandalo bollente dell'armadio, Ceccio e Ignazio possono vivere la propria passione senza doversi più nascondere. La storia, dunque, prosegue anche dopo la fine del programma. Chi pensava che la liaison si sarebbe ridotta ad essere un fuoco di paglia dovrà ricredersi. Grazie. Grazie.